Tonificare i glutei in casa con 5 esercizi Per tonificare i glutei, è fondamentale comprendere che bisogna seguire abitudini di vita sane in maniera permanente. La pratica quotidiana di attività fisica, combinata con alimenti ricchi di proteine e grassi sani, aiuta a rinforzare questo gruppo muscolare che, è bene ricordarlo, è uno dei più estesi del corpo. A tal fine, molti optano per iscriversi in palestra, poiché gli attrezzi e lallenamento professionale sono di grande aiuto per ottenere buoni risultati in poco tempo. Tuttavia, c'è chi non dispone di tempo sufficiente per recarsi in palestra o la considera costosa e fuori dalla sua portata. Non è necessario, però, limitare la pratica di attività fisica a questa alternativa, poiché ci sono diversi esercizi che possono essere realizzati comodamente da casa. Esercizi per tonificare i glutei Gli slanci a 90 gradi sono un esercizio che fa lavorare i muscoli dei glutei, aumentandone la tonicità e il volume. Si tratta di un'attività che richiedere forza fisica e coordinazione che mette alla prova le abilità di equilibrio. Mettete un tappetino per terra e posizionatevi appoggiando le mani e le ginocchia sul pavimento. Contraete i muscoli addominali e, allo stesso tempo, sollevate una gamba, in modo tale che il ginocchio formi un angolo retto. Assunta questa postura, spingete la gamba più in alto che potete, mantenete la posizione per due o tre secondi e poi riacquistate quella iniziale. Ripetete l'esercizio con l'altra gamba e realizzate tre serie da 12 ripetizioni. Ponte. Il ponte è un esercizio complementare che aiuta a rinforzare i glutei, le gambe e l'addome. Quando viene realizzato, è fondamentale contrarre i muscoli, poiché aiuta a stabilizzare il corpo e a non perdere l'equilibrio. Sdraiatevi a pancia in giù sul tappetino, con le ginocchia flesse, i piedi appoggiati al pavimento e le braccia laterali al corpo. Sollevate i glutei dal pavimento, verso il soffitto, e contraete i muscoli più che potete. Mantenete la posizione per tre secondi e poi abbassate i glutei senza mai toccare terra. Realizzate dieci ripetizioni e completate tre serie. Questo semplice esercizio aiuta a rinforzare e tonificare i glutei, oltre a rilassare la zona lombare. Separatevi alla lunghezza di un braccio dallo schienale di una sedia, con i piedi uniti e le mani appoggiate su di essa. Sollevate all'indietro una delle gambe, portandola più in alto che potete, e tenetela stesa mentre inclinate leggermente il corpo. Abbassatela facendo pressione sui glutei e ripetete il movimenti con quella opposta. Realizzate dodici ripetizioni per ogni lato, completando tre serie. Lo squat laterale è un'attività che fa lavorare la zona inferiore del corpo, rassodando i glutei e le gambe. Dopo aver spostato il peso del corpo su una gamba, si realizza un semplice squat, che aumenta la resistenza fisica necessaria per realizzare l'esercizio. Mettetevi in posizione retta, con i piedi uniti e le mani sui fianchi o davanti al corpo. Portate di lato una delle gambe, in modo che l'altra risulti leggermente flessa. Quando la piegate, scendete con i glutei, come se steste realizzando uno squat. Tornate alla posizione iniziale e ripetete il movimento con l'altra gamba. Realizzate dieci o dodici ripetizioni con ogni gamba, fino a completare una serie da tre. Affondi. Gli affondi sono esercizi di tonificazione che aiutano a mantenere i glutei e le gambe tonici e forti. In piedi, reggendo due manubri con le mani oppure appoggiandole sui fianchi o posizionate dietro al collo. Flettete una delle gambe in avanti, in maniera tale che il ginocchio formi un angolo di 90 gradi. Nel frattempo, spingete l'altra gamba all'indietro, quasi come se il ginocchio toccasse il pavimento. Rimanete in questa posizione, poi abbassate i glutei senza perdere l'equilibrio. Trascorsi due secondi, tornate alla posizione iniziale, eseguendo un movimento lento. Salite e scendete dieci volte con ogni gamba. Che ne dite di provare a casa? Se non avete ancora iniziato ad esercitarvi per ottenere glutei formosi e forti, realizzate gli esercizi menzionati e includeteli nel vostro quotidiano programma di attività fisica. Sebbene i progressi non siano immediati, con il passare dei giorni comincerete ad avvertire i muscoli più forti e tonici. Grazie a tutti!